Ultima esibizione dei nostri ragazzi, si confrontano la verdesca Steppentano 2010 e classe 2010 e i ragazzi del Giulianova, Giulianova calcio, adesso c'è un calcio d'angolo, è l'ultima gara Ma non ci dobbiamo rivestire, no no no, che rivestire dopo, forse per mangiare, se si vuole potrete che dopo il fattore si fa condiviso Indietro, indietro Aspettiamo le altre Ehi Paolo, attenzione Vediamo anche le mani, vediamo anche le mani, i papà, i nonni, tutti quanti Dai ragazzi, dobbiamo andare Grazie